Tutto pronto adesso con l'ingresso di Redlor, che rimane comunque favorito, partiti per la Coppa della Sire. Dall'esterno Epic che prova a portarsi in vantaggio affiancato da Redlor, i due su Salar Thorfield, poi ancora Colwin, a largo Schanner, Rienafer a chiudere il gruppo nonna Iole. A datore di tutto comodo, nella prima fase di corsa Epic ha potuto prendere il comando senza dannarsi più di tanto l'anima. A secondo posto in giubba rossa con le maniche verdi Redlor, a largo del quale in giubba bianca avanza Schanner, che ora si porta a secondo. Segue in arancio lungo la corda Colwin, mentre largo in giubba a rombi fucsi e verdi Salar Thorfield, anticipato da Rienafer in giubba blu scura colchè bianco in coda a contatto con le spalline gialle nonna Iole. Non cambia niente, soprattutto non cambia il ritmo che Epic può impostare liberamente senza nessuna pressione da parte dei suoi avversari. Redlor e Schanner che rimangono rispettivamente in seconda e terza corsia, Colwin per vie più interne, largo anche Salar Thorfield, tra i cavalli Rienafer a coda nonna Iole. Così, quando si va a completare il retto opposta sulla piegata della pista circolare, ora Redlor si fa sentire al fianco di Epic il cuore replica. Su questa frazione rimanendo in terza corsia è qualcosina perso Schanner, che viene avvicinato sia da Colwin all'interno che da Rienafer. Salar Thorfield che curva largo avanzando e sempre a chiudere nonna Iole. Redlor che si prepara all'ingresso in retta su Epic per andare immediatamente in attacco serio adesso. Rienafer insieme a Colwin e a Schanner, all'argo di tutti Salar Thorfield, la partita anche la stessa nonna Iole. Redlor che si sbarazza di Epic e prova ad allungare in anticipo su Rienafer, all'argo di tutti Salar Thorfield insieme a nonna Iole, recupera anche Colwin in giù barancio. L'attacco di nonna Iole e di Rienafer e di Colwin che vanno tutti su Redlor che si difende ancora. Redlor è ancora in vantaggio su nonna Iole che a questo punto diventa la minaccia più decisa. Poi anche Colwin che si aggiunge la lotta nell'ultimo tratto a Redlor che è ancora in vantaggio su nonna Iole che li scatta addosso e lo passa di giustezza a pochi metri dal palo. Al terzo Colwin poi Rienafer e ancora Salar Thorfield. Bel successo di spunto per nonna Iole. Mario Baratti per il signor Pecoraro al Colori e al training. Grazie.